Il motore alloggiato in una gondola sbalzo sopra l'abitacolo, la trave di coda alta, la cellula in tubi di acciaio e alluminio aeronautico rivestita da una filante scocca di carbonio per coniugare sicurezza e prestazioni. Sono i tratti distintivi dell'OFX1, un velivolo leggero di ultima generazione sviluppato dalla Innova Aviation per rispondere ai requisiti della categoria LSA. Per oltre tre decenni la Innova Aviation, un'azienda italiana del distretto aeronautico delle Marche, ha lavorato attorno alla formula di questo velivolo, perfezionandone le caratteristiche costruttive e il design. Fly Europe TV è andata a vedere da vicino come l'OFX1 viene costruito. Siamo sulla biosuperficie di Val Viberata, alle appendici del Gran Sasso, sede della Innova Aviation, l'azienda abruzzese che costruisce questo velivolo. Si tratta del FX1, ultimo nato di una famiglia di aeroplani di successo. La formula è diversa dalle altre, per una ragione molto semplice. Il motore è sopra la cabina di pilotaggio in posizione anteriore, cioè davanti. È un motore di tipo trattivo e questo garantisce all'aeroplano una straordinaria silenziosità, sia a bordo sia a terra. Pensate che a bordo si è registrata una rumorosità nella condizione più onerosa di circa 85 decibel, quanto il rumore di una strada mediamente affollata. Quindi è possibile parlare anche senza l'ausilio di cuffie o altri dispositivi. La struttura di questo aeroplano, che è nato molti anni fa come un tubi e tela ultraleggero e che oggi ha prodato la categoria SLSA, cioè della Light Sport Aviation, ideale per la scuola di volo, quindi con idonea certificazione, è una struttura in tubi di acciaio cromo-molybdeno e in lega di alluminio aeronautico. La robusta struttura reticolare sotto la cabina e il motore in posizione elevata garantiscono la massima sicurezza passiva per gli occupanti. L'alloggiamento del box a rota 912 da 100 CV consente di accedere al propulsore da ogni lato, semplificando i controlli del pre-volo e la manutenzione dei meccanici. Il ruotino anteriore è collegato alla pedaliera mediante rinvia d'aste montate su cuscinetti autolubrificati. Il carrello balestra consente il decollo e la prodo su piste semi-preparate. Le semi balestre, realizzate in vetroresina rinforzata, sono calcolate per collassare in caso di urti importanti, salvaguardando l'integrità della cabina e dei suoi occupanti. Ma la peculiarità è che il rivestimento superficiale è interamente in carbonio, motivo per il quale la Innov Aviation ha dovuto attrezzarsi con una speciale divisione della propria azienda dotata di forni e autoclavi per la lavorazione del materiale composito a fibre di carbonio. L'ingegner Paolo Silvestrini è il direttore tecnico della Innov Aviation. Come puoi vedere il nostro velivolo qua ha una configurazione leggermente diversa dagli altri velivoli che si vedono in giro. Abbiamo un motore installato sopra la cabina con un'elica molto allungata in carbonio e questo aiuta il nostro velivolo a mantenere una silenziosità sia esterna che interna relativamente bassa. L'accesso è molto comodo per la manutenzione di questa macchina? Abbiamo posizionato una via d'accesso inferiore ed una superiore in modo tale da poter mantenere l'aeromobile ed avere un accesso diretto al motore per i controlli quotidiani e straordinari. Ingegnere, vedo che questa lavorazione molto raffinata ricorda un po' la chiglia di una nave. Per quale ragione, oltre all'aspetto aerodinamico, ha contribuito per esempio ad abbattere il rumore? Diciamo che il design intero del nostro velivolo contiene più spunti. Il primo è sicuramente l'abbattimento del rumore ma, insomma, alla stessa maniera noi puntiamo molto sul design e sul colpo d'occhio. Sicuramente un design accattivante che ci permette di combinare insieme, di avere una fusione fra design e qualità di volo, performance e abbattimento del rumore. E questo è quello che abbiamo tirato fuori. E il carbonio, il materiale che noi utilizziamo per l'estetica, è il materiale che abbiamo scelto per arrivare a questo tipo di forme. Saliamo a bordo di questo aeroplano. L'altro vantaggio che noi abbiamo posizionando il motore sopra è proprio un accesso più semplice, più comodo al nostro velivolo, perché la posizione del sedile è più bassa e si può semplicemente entrare dentro in questa maniera. Ecco, vedo che una caratteristica particolare sono gli spi. Questo è un design nostro interno e permette una manovrabilità, una controllabilità molto sensibile e diretta in volo. Ed è qualcosa che tutti dovrebbero provare. La strumentazione vedo che è mista analogica digitale. La strumentazione che c'è qui è la strumentazione del prototipo che serve a noi per i test. In realtà noi avremo un glass cockpit completamente digitale con un backup analogico per ogni evenienza. Nella console centrale di questo prototipo, a differenza poi della serie, abbiamo messo qua la manetta del motore. Questa è una configurazione molto comoda secondo noi. A seguire ci sono il riscaldamento, tutti gli switch radio, l'accensione protetta dalle guardie di sicurezza. A seguire c'è la chiave, il blocco del freno e la leva freno. Questa è la leva del paracaduto di emergenza invece posizionato sul dorso dell'aereo. Grazie alle ampie sfinestrature che si protendono fino alle spalle dei piloti, la visibilità è uno dei punti di forza dell'OF-H1, così come la spaziosità dell'abitacolo, che misura 120 cm di larghezza, 96 di altezza tra il sedile e il cielo della cabina e una distanza tra lo schienale e la pedaliera variabile da 95 a 110 cm. La cura degli allestimenti e l'elevato livello di confort pongano l'OF-X1 ai vertici della sua categoria. Renato Desti è il pilota dimostratore di NOV Aviation. Renato, questa macchina in cosa differisce? Che caratteristiche ha? Allora, questo velivolo è veramente fantastico, ha il massimo comfort con una cloche laterale, la manetta al centro e ti devo dire che all'inizio mi sembrava un po' diverso dalla cloche centrale, ma effettivamente con le 150 ore che ormai abbiamo testato questo mezzo, il comfort è massimo. La cabina è molto spaziosa, molto comoda. E la visibilità? La visibilità è direi quasi al pari di un elicottero, perché ha uno spazio quasi a 340 gradi, perché voltandosi verso la coda si riesce a vedere anche i piani orizzontali. Le caratteristiche di volo principali? Le prestazioni sono molto interessanti, in quanto abbiamo in basso ovviamente all'elica che uno monta, una velocità di crociera molto alta si aggira intorno ai 180-200 e una velocità di stallo molto bassa che si aggira intorno ai 65 km l'ora. Il motore là sopra, che è così non convenzionale, che effetti dà? Disturba? Non dà assolutamente nessun problema. E questa è un'ala alta a tutti gli effetti, come tutte le alle altre ovviamente la visibilità superiore è un po' limitata, ma il motore non dà nessun problema. Neanche dal punto di vista aerodinamico, cioè essendo sopra la linea del baricentro, può creare un momento picchiante? Certo, crea un leggero momento picchiante, il baricentro è un po' più alto del solito, però questo non comporta ai fini delle prestazioni, non c'è nessuna incidenza. Nel complesso, l'OFX1 è sicuramente un velivolo degno di grande attenzione, perché è presente un'architettura con caratteristiche non certo consuete rispetto alla maggioranza dei velivoli oggi in commercio. I 30 anni di ricerche e di esperienza nella ottimizzazione della particolare formula costruttiva trasfaiono ovunque, dall'efficienza delle soluzioni tecniche al design, alla cura di ogni dettaglio, un risultato che premia tre decenni di costanza e di lavoro.